salve ragazzi e bentornati su passione acquatica allora oggi andremo a conoscere un attimino meglio un altro pesce diciamo molto presente nel nostro paese che è la trota allora intanto diciamo che le tre varietà un pochino più comuni delle trote sono la trota iridea che si suddivide in iridea e trota salmonata con una piccola differenza praticamente la trota salmonata non è altro che la trota iridea che viene alimentata fin dalla nascita in maniera diversa gli viene dato gli vengono dati dei pellet del mangime a base di gambero e quindi la sua carne prende un colore un attimino più roseo tendente più al salmone e infatti viene chiamata trota salmonata ecco l'iridea la trota salmonata è la trota che noi troviamo ripeto sul bancone frigo sui banconi degli alimentari dei negozi alimentari e questa è quella più comune poi abbiamo la trota fario che è un attimino più delicata e la troviamo nel tratto torrentizio dei fiumi e dei dei torrenti dei ruscelli di montagna ha bisogno un attimino più di ossigenazione di di acqua movimentata e un pochino più pulita ecco un pochino più pulita ancora un pochino più delicato è salmerino e salmerino lo troviamo nel tratto alpino proprio diciamo quasi alla sorgente dei fiumi e dei corsi d'acqua in cui nascono insomma corsi d'acqua ecco detto questo tutte e tre le tipologie di pesci di tre varietà possono essere immesse in laghetti a pagamento dove noi possiamo andarla a pescare ecco andarla a pescare in che con che tecnica allora fondamentalmente la pesca la trota si divide in tre o quattro tecniche cioè abbiamo la tecnica galleggiante che si suddivide con galleggiante semplice galleggiante piombato per lanciare più lontano oppure per essere un pochino più tecnici galleggiante a penna ecco sono tre tipologie di pesca a galleggiante alla trota e ovviamente tutti i finali e tutti i vari disegni li trovate sul mio sito ora non sto a spiegarvi tutti i vari finali particolari poi abbiamo la pesca al recupero la pesca al recupero alla trota si suddivide in in due praticamente in due tre tre diciamo tre perché due sono ballerina tremarella che poi prendono bombarda vetrino comunque la tecnica super giù è sempre la solita lanciamo abbiamo un finale con con una bombarda con un peso che poi può essere semi galleggiante affondante galleggiante in base alla tipologia è un momento in cui andiamo a insediare pesce se sono più sul fondo metteremo più affondante se sono più a galla più galleggiante ecco quindi noi lanceremo questa bombarda recuperandola viene verso di noi e nel finale abbiamo una girella di solito a meno io uso una girella a tre snodi per essere per avere una rotazione migliore dell'esca e poi abbiamo la classica pesca spinning pesca spinning con artificiali gomme gomme simile a quelle vengono usate per il black bass per il persico trota oppure abbiamo i rotanti classici rotanti classici cucchiaini che fin nostri genitori usavano tantissimi anni fa ultimamente ultimamente stanno andando diciamo tra virgolette molto di moda e gli ondulanti gli ondulanti di grammazione che vanno dai 23 grammi massimo 5 ecco perché sta andando diciamo è molto cettonata ultimamente anche pescare a caccia e release a caccia e release alle trote e nei laghi e quindi vengono usate viene usata questa tecnica proprio come come divertimento insomma sta prendendo parecchio campo quindi che dire a questo punto vi ho spiegato un pochino del anche della trota e ripeto se avete qualche domanda in più potete tranquillamente mandarmi una mail contattarmi dal mio sito e che dire grazie ancora di essere stati insieme a no bisogna dire anche questo bisogna dire le esche ecco le esche per pescare diciamo con con il galleggiante allora di solito una volta si usavano gli ombri gli ombri anche ora vengono usati ma in maniera minore perché ora ha preso campo parecchio la camola e poi ha preso campo tantissimo le varie pastelline colorate le spugnette i vari torcherini e le varie caramelline insomma sono tutte colorate vanno in base comunque anche alla gente esterni cioè nel senso se c'è più luce meno luce del se c'è il sole non c'è il sole se c'è l'acqua torba più trasparente insomma in base a queste cose ognuno poi segue il colore che preferisce ok allora detto questo ora vi saluto davvero grazie ancora per essere stati con me qui sono passione acquatica ci sentiamo presto grazie mille ripeto se avete qualche domanda da farmi andate pure sul mio sito sulla mia mail contattatemi e vi risponderò ciao ragazzi a presto